Fammi chiamare per vedere ciò che devo prendere Ciao amore, no no amore, ti sto chiamando solamente per sapere la conferma Sì, l'ho presa la lista della spesa, sì Favremmo sapere solamente la conferma della prima cosa che c'è scritta sulla lista La pasta, la pasta, la pasta Ciao amore, anche io chiamo Prendo il carretto, ah da, perché le volte che devo prendere Non si serve il carretto No, dove cazzo sta la pasta qua? Scusami signora, non posso dire Ma, lo scopo della pasta dove sta? Guarda, in fondo di là, a sinistra Sì, devi andare di qua Sì, mi vuoi accompagnare un po'? Va bene, dai che attivano io Grazie Questa è la pasta Ah, grazie, grazie Ciao, arrivederci per la spesa Grazie, buongiorno Grazie, buongiorno Grazie, buongiorno Grazie, buongiorno Quanto sta una pasta? Prendo quattro in più Questi pure mi sembra che lo dividiamo Questi pure lo dividiamo Questi pure lo dividiamo Questi pure Guarda, tanto il carretto non mi serve Per il carretto non mi serve Ah, tanto il carretto non mi serve Ne prendo un Anche alla fine Seve tre cose devo prendere Sì, ciao Ci hanno fatto anche questo E ora non lo faccio a prendere Scusami signora Ciao Io non lo faccio a prendere Ma ci sono qualche cosa è stato Cosa è mamma? Sì, vieni Mentre Vieni Vieni Ma se io due ti forse devo prendere Scusami signora Scusami signora Grazie Andiamo, 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 come facciamo? Vieni, 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 appoggio, appoggio. L'amelo, vieni, appoggio. Sì, questo si chiama caffè. Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie.